Salve a tutti gente, sono Alex Pios e oggi siamo su Minecraft. Oggi faccio sto video, cioè questo è il mio secondo video di oggi, perché altro per mostrarvi una cosa. Sapete che nei video precedenti, chi mi segue la serie di Minecraft, ho trovato un sacco di ferro, ma proprio tanto, avevo tipo in eccesso 29 di ferro e mi sono fatto giusto un po' di picconi in ferro. Ho fatti un, due, tre, otto, nove picconi in ferro, mi sono fatto. Ho dieci picconi in ferro, li ho fatti perché così almeno adesso passo a usare i picconi in ferro, perché quelli in pietra fanno abbastanza schifo, hanno pochissima resistenza. E quindi, adesso ho iniziato anche a spicconizzare bene bene, così adesso posso andare più in fretta nella miniera. E, boh, sono più resistenti, sono più... diciamo che mi sono evoluto, adesso non faccio più picconi in pietra, ma in ferro. Quindi, boh, io piano piano mi sono evoluto, adesso continuiamo a spicconizzare questa miniera. Io, raga, spero di trovare sempre del materiale, ci spero sempre, così almeno faccio il materiale. Più che altro voglio trovare diamante, anche perché di diamante ne ho solo uno, nella vecchia miniera ne ho trovato solo uno. E in questa almeno un po' di più ne vorrei trovare. E anche un po' di lava, sinceramente, non dico tanta, però, giusto un po' di lava mi farebbe comodo. Infatti sto sempre sperando ritrovarla, ma come al solito non trovo un cazzo. Un'altra volta ho trovato un sacco di carbone, ferro, carbone, in quantità industriale. Mi apre una fabbrica di carbone. Ecco così che mi apre. Ferro anche ne avevo una quantità industriale, ora ancora due lingotti di ferro. Cioè, dopo che ho fatto nove piccoli in ferro ne ho ancora due lingotti. Quindi capite quanti cazzo non avevo di lingotti. Ho fatto bene a fare tutto sto ferro. Adesso faccio una ricerca di materiali. Se rimuovendo sto strato non appare niente, metto in pausa il video finché non trovo qualche materiale. Così almeno lo riprendo quando lo trovo. Per ora niente, tanto pietrisco. Non che non mi serva. Trovassi qualche altro materiale che mi servisse di più. Tipo diamante. Anche perché c'ho 30 livelli, c'ho i libri. I libri ne ho già fatti tra l'altro. Nelle case dei villager ci sono dei libri. Io mi faccio la stanza inciante e inizio a inciantarmi le cose. Io lo trovo molto carino Minecraft come giù. Questo è bello. Cioè, è bello Minecraft come giù. Ovviamente che lo critica e dice... Io non capisce niente. E' cosa di cui... Io mi chiedo, sotto un materiale che cazzo serve? Ok. Eccomi, scusate se mi sono interrotto. Comunque ho già rotto un piccone in ferro. Vabbè, ma quello lì era già usato. Comunque ho notato che col piccone in ferro già due... Due piani si riescono a fare. Sempre capito cosa intendo. Però non ho trovato ancora niente. Oggi direi che non è una bella giornata su Minecraft. Però non ho trovato un cazzo. Sentite, raga, come ho già detto, io stoppo il video finché non trovo qualche cosa, ok? A dopo. Raga, che dire, questa è la miniera del carbone. Sa, spacchiamo. Vediamo quanto ce n'è. Va anche in profondità. Wow. Minchia, avete visto quanto carbone che c'era? Madonna mia. Cioè, mi ha proprio arricchito, diciamo. Boh, raga, che dire. Io, diciamo che la novità è stata... Sono stati picconi. Che ho deciso di... Di farmi dieci picconi. E in ferro. E, boh. Io purtroppo non ho trovato niente oggi in miniera. Speravo di trovare qualche cosina di più. Ma invece è andata così. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale. Lasciate un mi piace. Alla prossima, belli. Ciao, ciao.